euro carlo 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 ora possiamo vedere la fine cartesina che gioco al computer potete vedere che il computer sta funzionando molto bene anche io sta funzionando molto bene vedete che il computer ha una schermata di gioco notate la forcetta c'è una bella grafica c'è una bella grafica ho perso la friccetta allora sono le 6 e 7 bene fra due ore mangio io ho già fame oddio Raffi una piccola informazione devo continuare a sprecare minuti di questi preziosi video oppure posso smettere arrivederci